eccoci signori buongiorno oggi 6 gennaio 2016 guardate che crotoni da urlo primo segno della giornata guardate che spettacolo potremmo vogliarmente dire che sono padelle forza signori ruotoni in grande quantità guardate che spettacolo potremmo Grazie a tutti. Eccoci signori, per il momento è tutto, a più tardi, buona giornata!